Per risultati classifiche Pagello come sempre c'è con noi in studio Sergio Catalani. Buonasera Sergio. Buonasera Simona, buonasera a te e a tutti i telespettatori. Allora com'è andata? Si è aperta con una vittoria? Beh direi molto bene. Questa seconda parte. Direi molto bene Simona perché non era facile vincere su un campo come quello del Fadini di Giulianova. L'Alma lo ha fatto anche in maniera meritata e Chiara, un 1-0 con un gran gol di Borelli che poi vedremo. C'è stato a dire il vero episodio che i giuliesi hanno protestato lungamente per un presunto tocco di mani in area di Nodari. Lo vediamo nelle immagini con il tiro dal limite del numero 8 Cerasi e Nodari che praticamente un po' per ripararsi, un po' forse per tentare diciamo di, vedete Alex Nodari il capitano Granata, un po' per ripeto anche per far sì che la palla non finisca dalle parti di Marcantonini ma non è chiaro insomma se il rigore diciamoci poteva stare o meno. Vedete il tiro di Cerasi, in area di rigore Nodari con il braccio, la direzione cambia. In realtà Nodari si copre il volto e non ce la sentiamo di intervenire. Il pubblico locale, i giornalisti locali, la tribuna ha protestato a lungo anche in maniera pesante un po' contro l'entura di Sgranata. Vedete intanto questo è il gol di Borrelli, la perla, la perla di Borrelli che riceve palla da Sivilla, il gran tiro nell'incrocio e il gol partita. Veramente chapeau per questo giocatore, il tuttocampista, il mago Borrelli che poi corre dai tifosi e sente l'urlo dei 100 irriducibili Granata a corsieri al Fadini. Quindi ecco un omaggio a Davide Borrelli per questo gol veramente bello che rimette il Fano in careggiata e rimette l'Alma a 8 punti dalla Samb che ieri non è andato a voto il pari con la Fermana. Ma vediamo proprio i risultati e la classifica del campionato di Serie D, Gione F, ieri era la diciottesima giornata con il blitz dell'Alma a Giulianova per una rete a 0. Quindi a Dagnone, Chieti batte Agnonese 3 a 0, a Mitandina e Monticelli 0 a 0, Folgore e Vere Gravispesero 1 a 1, a Isernia, Matelica batte Isernia 1 a 0, Iesina batte Castelfidardo 1 a 0, a Recanati, Campobasso batte Recanatese 2 a 1, Samb e Fermana 1 a 1, San Nicolò batte Avezzano 1 a 0. Per una classifica che vede la Samb in testa con 42 punti, segue la Matelica a 6 lunghezze, si assottigliano quindi le distanze tra la battistrada e le immediate inseguitrici. Il Fano si mantiene al terzo posto con 34 a 8 punti come detto in precedenza dalla Lepre San Benerettese. San Nicolò e Iesina a 27 e qui finisce la zona playoff. Folgore e Veregra, Campobasso 26, Chieti 25, Monticelli 24 insieme al Avezzano, Isernia 23, Fermana a Recanatese 21, entriamo nella zona calda con il Castelfidardo a 19 punti, l'Agnonese a 17, la Vis a 16, la Giuglianova a 15, chiude il Farnanio di Coda a Mitandina a 14 punti. Il prossimo turno, domenica prossima, sairà l'Agnonese del indimenticato bomber Tommaso Marolda, bomber anche del torneo. Una gara che sulla carta vede il Fano largamente favorito, ma si sa che le partite vanno vinte e quindi finché non ci sarà il fisco finale, è tutto sub giudice. Le pagelle ora della gara Giuglianova, Alma e Juventus Fano con Marco Antonini e Camilloni 6, De Iori il debutto positivo dell'ex Bellaria 6,5, Lunardini 6,5, Nodari e Torta 8, veramente monstre la prestazione del capitano insieme all'ex Ancona e Civitanovese Andrea Torta, un muro veramente insuperabile, Civilla 6,5, Favo 6, Gucci 6, Borrelli 7, il gol ma non solo per il tutocampista di Guglionesi, Ambrosini 6,5, Marianeschi 6,5, senza voto Marconi e Gregorini, troppo poco il loro impiego ieri, un 6,5 anche per Alessandrini e per il direttore di gara Niccolò Marini di Trieste, anche per lui un 6,5. non abbiamo capito le polemiche sulla sua direzione di gara, a noi è piaciuto.